Lisa Ambrosini, Giussi Romano, seconda vittoria consecutiva dell'Energy Volley, 3-1 al Magreta, Qualpa la Sport. Lisa Ambrosini, 18 anni. Lisa Ambrosini, 18 anni. Allora, questa partita com'è stata? Tosta? Questa partita sì, tosta, sofferta, ci abbiamo lasciato mezzo polmone e anche una spalla, oserei dire, però abbiamo vinto. La cosa più importante era questa qui. Ci siamo presi tre punti in uno scontro che sicuramente alla fine dell'anno sarà uno scontro diretto. Ci abbiamo lasciato anche un dito, no? Speriamo, Anna, speriamo che vada tutto bene, quindi questa vittoria la dedichiamo all'Anna. Grazie, forza Energy!